Ora c'è venuto a trovare un nostro caro amico, che è un figlio d'arte. Tanti di voi ricorderanno l'orchestra di folklore di Romagna. Tantissimi brani, i brani che hanno fatto successo all'inizio degli anni 70, fino agli anni 60, erano scritti da un grande musicista di Cesena, il maestro Tiberio Marani. Vi cito, meraviglioso, i cavalli sono stanchi, Baronetto, siamo in onda, Passorolle, Supersonica, Firitose, chi più ne ha più ne mette, fiocco di neve e via. Lago Dorato, lago Dorato, vedi, ecco esatto, dopo faremo anche quello. E quindi stasera c'è Lionello Marani, il figlio del maestro Tiberio Marani, venuto da Cesena apposta per il cao Lionello. Ciao, grazie a te. E allora Gabriele Zaccherini ci suona questa polca del maestro Tiberio Marani, successo del folklore di Romagna, si intitola Super 7. Vai Zac! Quale che passi? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.